C'è tempo fino al 29 gennaio per presentare proposte progettuali al servizio giovani e pari opportunità del Comune di Napoli. Associazioni giovanili, terzo settore e giovani cittadini sono invitati a partecipare alla programmazione delle attività dei centri giovanili per il 2018, con idee che saranno approfondite, analizzate e supportate attraverso un piano di comunicazione ed una campagna di crowdfunding civico del Comune. I giovani sono il presente e il bando del Comune di Napoli per raccogliere quante più idee e azioni creative e innovative per i giovani napoletani. Il Comune di Napoli mette a disposizione il suo patrimonio immobiliare che con una delibera di giunta e con un regolamento del Consiglio Comunale è stato con forza messo a disposizione per le azioni dedicate ai giovani. Questo patrimonio immobiliare sono i centri giovanili della città di Napoli, invito quindi tutte e tutte associazioni, comitati, gruppi informali, ma anche privati, aziende, università a mettersi in gioco insieme al Comune di Napoli, a rispondere a questo appello e a scrivere insieme una programmazione per il 2018 all'insegna di un'offerta culturale e formativa di opportunità per i giovani che possa disorientare positivamente tutte le energie napoletane e soprattutto per lavorare insieme alle pagine di violenza e di mancanza di opportunità per i giovani che noi invece vogliamo riscattare attraverso un lavoro quotidiano e concreto.